segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te di prendere di mira qualcuno perché ebreo non non cioè di non distinguere più tra governo israeliano esatto chi è che usa il termine ebreo in maniera sprezzante e qui mi dispiace ma devo ricordare uno dei post che giorgia meloni fece in occasione delle elezioni europee del scorse in cui taccio il finanziere soros con una bella fotografia come finanziere ebreo cioè quindi dando una connotazione specifica a una persona in maniera stigmatizzante io questo termine ebreo appiccicato a qualche cosa da parte a sinistra faccio fatica a trovarla parte qualche imbecille di ragazzotto che va in giro così a strappare manifesti quindi io sarei un pochino più cauto in questa specie di demonizzazione qualcosa che io trovo infrange irrilevante dal punto di vista politico a sinistra Susanna Turco ricorda